Ciao sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e in questo video ti voglio parlare di qual è la miglior marca di finestre Su questo argomento trovi il mio precedente articolo e il mio precedente video dove vado ad analizzare le marche delle finestre dei rispettivi materiali ma in questo video ti voglio aiutare nella scelta e dire delle cose importanti che riguardano anche le marche delle finestre quindi attenzione alle marche più famose perché spesso non è sinonimo di qualità qualità diciamo in quello che ti aspetteresti alla fine del risultato perché ti dico questo? Perché spesso le marche più famose sono vendute da venditori e non da consulenti tecnici quindi ti potresti ritrovare con appunto dei venditori che cercano di venderti il prodotto magari che a loro gli fa più comodo il prodotto più standard, il prodotto che per il tuo caso specifico magari non va bene li riconosci perché magari ti iniziano a dire guarda questo edifisso che è fantastico oppure guarda quest'altro quanto è all'avanguardia e ti parlano poco degli aspetti tecnici o soprattutto non ti parlo per niente dell'appoggio in opera come viene eseguita e se gli fai delle domande troppo specifiche della differenza tra un vetro selettivo o un vasso emissivo o gli chiedi che ne so ad esempio il punto di rugiada ecco vanno in brodo di giugiole comunque nella sostanza fanno il loro interesse e non ascoltano le tue esigenze cosa che invece è fondamentale per avere un risultato fatto nel migliore dei modi attenzione anche alle bellissime sale mostre perché spesso nascondono qualcosa dietro sono degli specchietti pelle a lodole quindi bisogna affidarsi magari a chi ha già lavorato in quell'azienda affidarsi alle recensioni che sono state lette e non andando solamente alla cieca con il marchio più famoso cioè ad esempio sei innamorato di un marchio vai da revenditore a quel marchio e pensi che avrai trattato al top com'è quel livello di quel marchio magari è il numero uno di quelle che ti ho fatto nel presidente articolo dove faccio vedere quali sono le marche migliori questo non è detto quindi bisogna fare attenzione bisogna avere a che fare con aziende serie e con consuletti tecnici preparati che sanno quello che stanno facendo se sei nella nostra zona e vuoi affidarti a noi non devi fare altro che andare su www.bisacchi.it se invece vuoi approfondire il bellissimo mondo degli infissi puoi acquistare il mio libro e farti un'idea generale di tutto quello che è importante prima di scegliere la marca degli infissi se ti è piaciuto il video metti mi piace e segui il canale ciao e al prossimo video ciao